ma come si posta? ma come si posta? ma come si posta? ma troppo che montesa non lo tiro su così montesa ah quello di suolo muore ancora mi entra troppo benzina mi entra troppo benzina è leggera manca due denti c'ha ragione il spray mancano due denti prego andale ma c'è il suolo ma quella io non mi trovo davanti non sento come cazzo è sempre tanto leggero e poi che mi manca quando apri il contrario mi sa che l'ho preso eh vissà vissà rilascio io sicuro dai contrario è un'altra 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 è un'altra